realizzato in tempi brevi grazie al sostegno della società dei palchettisti viene inaugurato nel 1861 con moduli architettonici di stile neoclassico nasce con l'intento di offrire alla città un teatro consono ai gusti del tempo dotato delle migliori soluzioni acustiche e visive senza penalizzare la comodità di palchi e platea negli stessi anni viene progettata anche la superficie aperta del giardino pubblico collocato nell'area posteriore ampio spazio verde pensato a completamento ambientale del teatro con i suoi 570 posti tra platea, palchi e loggione il teatro caratterizza la programmazione culturale annuale della città offrendo da ottobre a giugno numerosi appuntamenti di prosa, musica classica, danza e teatro scuola grazie a tutti Grazie a tutti